Siamo qui con i ragazzi vincitori del trofeo X3 di Napoli, di Villa Bruno e abbiamo qui il capitano, presentati! Ciao, io sono Pierfiggi Abrea, vengo da Portici e qui c'è la mia scuola! Dai, come si chiamano i tuoi compagni che hanno giocato con te? Di Velo Guarino, in arte squizza, segnale, segnale, un rapper famoso, non tesuviano, chiamatevi questo nome! E poi, e poi? No, noi abbiamo Eric Cavana, il nostro centro, come potete vedere dai centri, un altro rapper a spalla di Svitti, una melodica e l'uomo! E ragazzi, com'è stata la finale, tutto il torneo, raccontateci un po'? È stata la prima partita in cui si è giocato a basket, non erano botti, siamo divertiti! Siamo divertiti! E per il fatto della poca illuminazione del campo, si vedeva al campo? Perché da fuori sembrava peggio, sembrava! Alla fine si è aggiustata, all'inizio non si vedeva! Meglio questo campo con poca illuminazione che quelli per stare! E quindi, comunque, una bella esperienza conclusa nel migliore dei modi, comunque è la prima squadra di 250, cioè non proprio poche! Sarà bene! Ragazzi, ancora complimenti! Alla prossima! Come si chiama il sito? Spazio NBA! Spazio NBA! Un saluto e gli amici di Spazio NBA! Direnci!